Monica, tra le tue braccia è davvero possibile fare un'esperienza così di Dio? Di un Dio sensibile e non solo come una serie di valori in cui credere e a cui dover aderire? Non mi sembra molto corretto far sembrare Dio una persona, nel senso che per analogia possiamo dire che Dio ci tiene tra le sue braccia, però è un'analogia, cioè qualcosa che si avvicina alla realtà, ma che non è la realtà, perché la realtà è molto significativa. Una persona che ti vuole bene, che tu vuoi bene, può tenerti tra le sue braccia e questa risulta un'esperienza tra le più appaganti, significativa. Ma il modo che ha Dio di tenerci tra le sue braccia è qualcosa di molto, molto più globale direi, no? Lui accompagna la nostra vita, dal suo soggere, dall'inizio, al termine e oltre e siamo sempre nelle sue braccia. Io nella mia piccola esperienza qui da monaca, anche prima, seppur un po' travagliatamente, però la mia esperienza qui in monastero, piano, 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 ho potuto imparare a vedere questo agire di Dio, a sorprendere questo Dio che si prende cura di noi in tanti modi, alle volte anche modi che secondo noi non hanno niente a che fare con la tenerezza, con la bontà, con l'amore, con la soddisfazione, gratificazione. E che pure poi in secondo tempo tu vedi che invece sono stati momenti che ti hanno aiutato a crescere, e diventare di vita stessa. Quindi siamo tra le braccia di Dio, nel suo cuore, sempre. Parlami Signore, fammi credere che la notte più nera passa quando io ti chiamo, quando sei vicino a me. Marco Piovetto, ti è mai successo? Potrei parlare, ecco, di un momento che ho vissuto tanti anni, infatti mai. Dunque, io venivo da un'esperienza resistenziale piuttosto difficile. Ero appena tornata da un lungo viaggio in Oriente, ero in convalescenza, avevano operato urgentemente il perito niente, quindi anche forse salvata per i capelli, e avevo alle spalle veramente un, non dico un fallimento, comunque un grosso senso di nullità, di niente. Mi sembrava che questa vita non valesse più niente, avevo provato tutto e non trovavo ancora qualcosa che veramente mi desse delle ali, non so come dire, tirasse su. Ed ero, ricordo benissimo, ero letto, stavo leggendo un libro di San Giovanni della Croce, che mi era capitato tra le mani per caso, però non è che leggessi, frequentassi autori cristiani tantomenistici, e leggendo questo libro, sì, d'accordo, mi sembrava una persona che scriveva bene, però ben distante, ecco, dalla mia esperienza, comunque ho messo giù il libretto, e mentre così riflettevo un po', c'è stato un momento di grande commozione, perché ho avvertito chiaramente la presenza attorno a me, dentro a me, non so io dove e non so per quanto, però ho fatto proprio l'esperienza di una presenza che era amore, che era gioia, che era pienezza, vicinanza, pienezza di bene, direi, pienezza di bene, non saprei neanche quali altri aggettivi usare, e davanti a questa, cioè, immersa in questa esperienza, io ho rivisto la mia vita, piccoli flashback così, e ho rivisto quei momenti in cui io cercavo, e ho cercato, mi sono isolata per cercare dei momenti di, appunto, dei posti, dei luoghi dove vivere questi momenti di intimità con questa, con chi? Non sapevo dallo nome, che però stavo cercando, che cercavo, e lì in quel momento, appunto, a letto, ho capito che era questa presenza che io cercavo, questo essere che si stava presentando a me, così, e lì si sono sciolte le mie resistenze, è andata giù dalla mia difesa, e ho detto, ok. Il giorno dopo, per le ore che potevo alzarmi, muovermi, sono andata dai fratti, ho chiesto di un confessore, ho un po' sottoposto la mia storia, perché non sapevo bene se la mia testa funzionava, se aveva perso qualche protettino, e lui mi ha ascoltato e poi mi ha detto, sì, ha detto, anche secondo me, il Signore torna. Questa è l'esperienza, no? Raccontata così in soldoni e chiedo scusa. Però è stato il prorompere di Dio, secondo me, nella mia vita, una vita che era chiusa. Io ero a terra completamente, intellettualmente, emotivamente, affettivamente, anche fisicamente. Ero veramente a terra. E lui è, in quel momento di deserto, di finitezza, strade chiuse, e ha fatto irruzione, gratuitamente e totalmente. Dalle tue braccia è possibile, però mi dovrebbe dire che qui è tutto, sembra almeno tutto facile, tra le braccia del monastero, fare un incontro così con Dio, coccolarselo, pregarlo, restare in silenzio, sembra un'esperienza fattibile, però poi noi adesso ce ne andiamo, usciamo, torniamo nel mezzo della crisi, del lavoro, della frenesia, dei pensieri, delle preoccupazioni. Lì noi siamo chiamati a incontrare Dio, a lasciarci incontrare da Lui. E facciamo fatica a volte a vedere queste braccia, a incontrarle, a lasciarci abbracciarle. Sì, penso che hai detto proprio bene, noi facciamo fatica a vedere queste braccia e a sentirle. E il punto è questo, siamo noi che facciamo fatica, siamo noi che abbiamo il problema. Non è il Signore che è più vicino qua, il monastero, alle persone, è più distante fuori. Siamo noi che abbiamo, che poniamo, diciamo, delle distanze, ma neanche tra noi e Dio, ma tra noi e noi stessi, perché quando noi ci troviamo, ci ritroviamo, ritroviamo noi stessi in un momento di preghiera, in un momento di desa commozione, e in un momento di desa commozione, noi anche automaticamente incontriamo Dio. Come diceva il buon Agostino, Lui è più interno, è più in me, di me stesso. Quindi se io trovo me, trovo anche Dio. Quindi il problema è che noi siamo distanti da noi stessi e quindi da Dio. Certo che le cose, le cose, gli impegni, possono distrarci, tirarci fuori. Sta a noi calibrare sempre dov'è il nostro centro per ritornarci. E poi, tra prendi, se non è detto che in monastero ci sia tutto questo benessere, tutto questo star bene, tutte queste braccia di Dio, e poi, beh, ti potete capire? No, non stiamo attenti. Uno che entra in monastero, come dicevano i padri, va nel deserto, dove ci sono bisce, serpenti, non c'è da mangiare, non c'è da bere. Cioè, vai a un corpo a corpo con tutti i tuoi diavoli, insomma. Quindi, per carità, poi ci sono anche le cose, i momenti buoni, ma... Sì, sono fatiche diverse dalla persona che opera nel mondo, ma sono fatiche e... Beh, le viene, ecco. Quindi, ritornando a Bumba, secondo me il problema è che noi siamo lontani da noi stessi e non sappiamo fermarci, perché fermarsi costa fatica, perché è più gratificante rotolare in mezzo a mille cose, tutto sommato poi di a guarda quanto ho fatto. Sì, ci serve tanto da dire, insomma. Quindi, se ho ben capito, tra le tue braccia, sono braccia che possiamo incontrare con fatica sia qui in monastero che fuori nel mondo, ma anche alla fatica sono braccia belle da cui sentirsi abbracciare. Ci serve qualcosa che ti va di condividere, di dire a questo proposito, in conclusione di questa nostra intervista, a chi ci sta ascoltando. Eh, forse, per modi, sigla conclusiva, e forse possiamo dire che noi possiamo essere, noi possiamo dare le nostre braccia a Dio, perché ci abbracci. Cioè, essere noi i primi che si prendono cura di noi stessi, di... ma di tutto noi stessi, di tutto quello che siamo. prendersi cura di noi come persona intera, eh, essere noi le braccia di Dio.